Incidente stradale nei pressi di Custonaci, sei morti vittime di uno scontro frontale tra due automobili, cinque. Sono palermitani, un motociclista di 23 anni deceduto nel Messinese. È stato uno scontro frontale tra due automobili, domenica sera, da una parte un Fiat Doblò e dall'altra un Alfa Romeo 159 Station Vagon. Non in una curva o a ridosso di un incrucio, ma lungo il rettilineo cosiddetto di Lentina, che è una frazione sulla strada provinciale 16, che dalla statale 187, da Trapani a Trappeto, nel Palermitano, collega due località turistiche trapanesi rinomate, San Vitolo, Capo e Custonaci. Sono morte sei persone, cinque delle vittime sono state a bordo del Fiat Doblò. I palermitani Matteo Cataldo, 70 anni, la moglie Maria Grazia Ficarra, 67 anni, il figlio Danilo Cataldo, 44 anni, poi Matteo Schierra, 72 anni, e la moglie Anna Rosa Romancino, 69 anni. Il sesto deceduto è stato al volante dell'Alfa Romeo, Vincenzo Cippo Nerri, 45 anni, di Custonaci. Al suo fianco si è seduta Maria Pia Giambona, 34 anni, di Erice, ricoverata in gravissime condizioni, all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Soprattutto durante il fine settimana la strada provinciale 16 è molto trafficata. L'impatto è stato violentissimo, come testimoniano le carcasse dei due mezzi. Alcuni hanno udito, fin anche un boato provocato dalla collisione. Lo strazio di familiari e amici si è riversato al pronto soccorso dell'ospedale a Trapani. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco provenienti da Trapani e Alcamo. Hanno estratto i sei corpi dagli abitacoli, poi sulle ambulanze del 118. I carabinieri di Custonaci e del nucleo radiomobile di Alcamo e gli agenti della polizia stradale sono stati al lavoro per i rilievi al fine di risalire alle cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità legate, si ipotizza, all'elevata velocità, in un tratto in cui si tende a pressare sul piede dell'acceleratore. Il Fiat Doblò è stato catapultato al ridosso del Garderail. E la prima domenica con l'ora legale è stata funestata da un altro sinistro stradale mortale. Un motociclista, Filippo Milone, 23 anni, è stato vittima di un incidente autonomo a Malvagna, in provincia di Messina. A lui, residente a Barcellona Pozzo di Gotto, nella frazione di Porto Salvo, in sella al mezzo a due ruote e in viaggio con una comitiva di amici, è sfuggito il controllo della moto e si è schiantato contro le barriere di protezione che costeggiano la carreggiata. È morto sul colpo! Inutile si è rivelato il tempestivo soccorso dei sanitari del 118, intervenuti insieme ai carabinieri della compagnia di Taormina, che hanno avviato le indagini. Filippo Milone ha lavorato con il padre e lo zio nell'impresa di famiglia che vende materiale ed ile.